Omicidio nelle campagne di Riesi. Un commando di killer ha infatti ucciso a colpi di pistola il pregiudicato Francesco Ottabì, 57 anni. Il delitto è avvenuto in contrada maggio, nelle campagne riesine, ai confini di un podere. Ad avvertire i carabinieri è stata una telefonata anonima che ha segnalato la presenza di un cadavere crivellato di colpi vicino a un trattore e a un vecchio casolare. Ancora oscuro è il movente del delitto, ma non si esclude la pista mafiosa. Giaceva nei pressi di un trattore, a pochi passi dal casolare. In zona è giunto anche il magistrato di turno. Il luogo del gravissimo fatto di sangue, attualmente setacciato in lungo e in largo, non sono stati trovati bossoli. I militari dell'arma, coordinati dalla procura di Caltanissetta, stanno scavando nel passato burrascoso della vittima. Ma nonostante tutto, gli inquirenti non escludono che le cause del delitto possano essere maturate nell'ambito della sfera familiare, dove i contrasti sarebbero stati duri e frequenti. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è legato alla sfera personale. Tabì era rimasto coinvolto nel blizza antimafia Odessa del 2005, che portò a 42 arresti. Aveva già subito la condanna a nove anni per associazione mafiosa. Lo scorso 19 marzo era stato arrestato dai carabinieri su denuncia dei suoi familiari per lesioni, danneggiamento, minaccia aggravata e appropriazione indebita.